con l'esecuzione di una marcia sinfonica. Queste composizioni nascono per l'esigenza della diffusione della musica polta in una forma tipicamente popolare come la marcia. Per cui sono ricchi di richiami alla musica operistica anche se non mancano composizioni di magnice spiccatamente folcloristica. Adesso ascolteremo la marcia sinfonica cuore abruzzese di Giovanni Orsomando composta su motivi pastorali uditi durante un viaggio appunto in abruzzo. A voi la nuova banda musicale vicina, diretta dal maestro Alberto Grimaudo. Grazie. 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 Grazie.